I vecchi messaggi sono importanti quanto i nuovi. Di Monique e Matteo e Duccella la Terre. Se pensate che i messaggi che vi abbiamo dato un anno, due anni, tre anni o dieci anni fa, oggi non valgano più, forse non avete capito o forse non avete fiducia in quello che abbiamo detto. Questo ci era trista. I messaggi che vi stiamo dando da più di vent'anni sono tuttora di attualità, ma constatiamo che sono mal compresi o mal integrati. La sola differenza con i messaggi dati una ventina d'anni fa, è che adesso andiamo un po' più lontano con quello che abbiamo da dire, perché constatiamo, con gioia del resto, che la coscienza umana si risveglia sempre di più ed è in grado di capire, di reagire e di agire in modo diverso. Vent'anni fa non c'erano queste grandi energie ad aiutare l'umanità a risvegliarsi più in fretta, a capire e a integrare più in fretta. Adesso queste energie ci sono. Quindi è inutile indicare la data dei nostri messaggi, perché quello che abbiamo detto tanti anni fa vale ancora oggi. Avete già constatato che ripetiamo spesso le stesse cose usando parole un po' diverse, sviluppando un po' di più, ma l'essenziale viene sempre ripetuto. Che il messaggio porti la data di oggi o di otto giorni fa o di venti giorni, un mese, un anno, dieci anni fa, non ha nessuna importanza. L'importante è il contenuto del messaggio. Perché volere sempre l'ultimo messaggio? Perché avete l'impressione, che sia più importante di quello di prima. È questo il vostro errore. Tutti i messaggi sono importanti. Fanno tutti parte di quello che dovete imparare nella scuola della Terra. Diciamo anche che sarebbe interessante riprendere i vecchi messaggi. Sareste sorpresi di trovarci dei tesori. È come se aveste dei testi di studio e vi chiedessero di immergervi di nuovo nelle prime lezioni, per capire e integrare meglio le ultime. Ogni lezione di vita, ogni cosa, che imparate e integrate a livello spirituale è importante.